Ciao ragazzi bentornati sul canale bentornati su world of warships finalmente siamo giunti all'evento di halloween io adoro questo evento secondo me è il più divertente e il più bello in assoluto come potete ben vedere il porto è stato decorato per l'occorrenza abbiamo zucche ovunque abbiamo il castello con i pipistrelli sopra abbiamo qualche mostro volante abbiamo anche poi qualche mostro nell'acqua vabbè adesso si è nascosto c'è qualcosina lì dietro allora dobbiamo dire molte cose cercherò di essere molto veloce prima di tutto abbiamo delle navi speciali che ci consentono di affrontare le varie operazioni che sono state aggiunte non tutte le operazioni sono disponibili fin da subito per alcune dobbiamo aspettare un po' di tempo tra l'altro apro una parentesi molto veloce le navi sono già disponibili sul mio canale perché l'anno scorso le ho portate tutte quante però tranquilli perché intendo fare un nuovo gameplay per tutte le navi sono nella sezione tutte le notizie per leggere come si articolano le varie operazioni molti di voi lo sapranno altri sono nuovi iscritti altri nuovi giocatori farò un riassunto davvero molto molto veloce allora la prima operazione è salvate la transilvania lo scopo di questa operazione come suggerisce il nome è di salvare scortare la transilvania da un punto a a un punto b come potete ben vedere sulla mappa qui rappresentata per diciamo scortare la transilvania potremo utilizzare queste navi che vedete il cacciador periniere blade la corazzata jackal oppure l'incrociatore eagle durante il nostro viaggio incontreremo diversi nemici tra i quali la nave zikasa le catapulte che ci spareranno dagli isolotti per poi incontrare la pericolosa corazzata rasputin che sarebbe praticamente una specie di boss finale tranquilli perché comunque poi come detto lo andremo a vedere anche in un gameplay avremo degli incarichi in carico primario escortare e proteggere la nave transilvania a qualsiasi costo e poi abbiamo degli incarichi secondari ovviamente più incarichi completiamo e più stelle andremo ad ottenere nell'operazione più stelle significa ottenere più ricompense andiamo avanti con la prossima operazione la seconda operazione si chiama bagliore nell'oscurità è praticamente il continuo dell'operazione precedente se nella prima operazione abbiamo salvato la transilvania nella seconda operazione dobbiamo salvare non solo la transilvania bensì dobbiamo fermare l'invasione e salvare i civili come facciamo tutto questo praticamente cercando di allontanarci dal portale e cercando di salvare le tre torri che nel frattempo cercano di chiuderlo vi ricordo che dal portale in questo momento stanno uscendo le navi nemiche che intendono distruggere per l'appunto tutti i civili e quindi portare distruzione ovunque per questa missione avremo maggiori navi di un livello superiore e anche con 19 punti abilità specifichiamo anche questa cosa avremo il cacciatore pediniere urashima l'incrociatore sviatazor la corazzata magnus s e la portaerei nobilium anche in questa operazione abbiamo l'incarico principale come detto dobbiamo proteggere le torri mentre sigillano il portale i vari incarichi secondari e le ricompense a seconda se andiamo a giocare la difficoltà normale oppure quella difficile adesso ragazzi tenetevi forte perché andiamo a vedere la nuovissima operazione che è stata aggiunta nell'operazione terrore degli abissi potremo utilizzare per la prima volta in assoluto i sommergibili avete capito molto bene non è uno scherzo potremmo utilizzare i sommergibili tra l'altro apro una piccola parentesi sul server test era possibile giocare in anteprima questa operazione io l'ho giocata purtroppo non ho avuto il tempo di registrare un video però tranquilli perché lo vedremo più avanti e mi sono divertito davvero tantissimo come detto con i sommergibili dovremo cercare di sconfiggere in maniera definitiva la rasputin per fare questo abbiamo praticamente l'armamento principale sarà costituito dai siluri siluri che potranno essere di due tipi allora lo dice qui praticamente i siluri standard i pesci di metallo standard dotati di discreta velocità e simili a quelli in dotazione caccia torpediniere e i siluri immobilizzanti attenzione che si muovono più velocemente e causano danni inferiori ma che disabilitano tutti i sistemi delle navi colpite per un certo periodo di tempo qualcosa di fantastico qui abbiamo anche una tabella riassuntiva sui tasti da utilizzare per comandare il nostro sommergibile ovviamente il fatto di andare di poterci immergere nell'acqua è la caratteristica principale del nostro sommergibile però non possiamo farlo per un tempo illimitato infatti avremo pochi secondi non ricordo quanti se devo essere sincero per restare sott'acqua dopo dovremo necessariamente riemergere per quest'operazione terrore degli abissi avremo cinque tipi di sommergibili a disposizione ognuno con delle caratteristiche uniche facciamo un paio di esempi la barracuda e il sommergibile con la più grossa riserva di ossigeno questo significa che possiamo rimanere sott'acqua per più tempo oppure la zipper sub si immerge ed emerge più velocemente di qualsiasi altro sommergibile poi via via come detto ci sono tutte le caratteristiche dei vari sommergibili in questa foto possiamo vedere le navi in grande la barracuda la zipper e tutte le altre e anche qui come detto abbiamo l'incarico primario l'incarico secondario e le diverse difficoltà quella normale e quella elevata ultimissima cosa consegne del giorno Halloween dal 31 ottobre fino al 9 novembre andremo a ricevere in maniera del tutto gratuita semplicemente loggando nel gioco 10 ricompense in totale avremo 14 giorni per ricevere queste 10 ricompense il che vuol dire che possiamo non connetterci al gioco per un massimo di 4 giorni ragazzi torniamo nel porto prima di chiudere il video vi do un piccolissimo suggerimento che già diedi un anno fa quando utilizzate la Magnus S la corazzata disponibile per i vari eventi abbiamo nei consumabili lo scudo d'energia 2 ebbene la tua nave diventa invulnerabile attenzione a qualsiasi tipo di danno ad eccezione della melma la melma sarebbe praticamente una cortina fumogena tipo che avanza e leva HP alla vostra nave però durante questo scudo d'energia noi possiamo anche rammare le navi avversarie quindi se una nave avversaria ha 100.000 punti vita noi attiviamo lo scudo d'energia e andiamo a fare 100.000 danni nel giro di pochi secondi tenete a mente questa cosa però fate attenzione perché ovviamente lo scudo d'energia ha un tempo di attivazione davvero molto limitato utilizzatelo quando siete sicuri ragazzi video terminato grazie per l'attenzione e buon divertimento a tutti con gli eventi di Halloween noi come sempre ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao